No, no, niente foto, niente foto, no, 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 la sciambola, muoriamo signori, muoriamo. Adesso spiegami un po' cosa sta succedendo. Va a me, è tutto, va a me. Allora, cari signori, a quanto fa? Guarda quanta gente attorno all'Ora, l'olezzo, l'olezzo è emanato dalla macchina. Sembrerebbe, più che altro, olezzo di frizione tirata proprio alle lingue. Non mi vengono a tirare da due cose. La chakra di motore. Infatti, guardate, guardiamo come siamo a 30 anni e non sappiamo come funziona la macchina. Eh, voglio, bravo, bravo, faccio l'acqua. Quanti maschi staranno qua in mezzo? Penso uno sicuro. Una quindicina. Quattro macchine aperte. Eeeh! Noi stiamo provando la costruzione dei ladri. Salve. No, ci sono fermati, hanno parlato. Vincenzo, perché siamo cerca di noi, riuscivano a raccogliare assolutamente l'attenzione. E' sabato sera, lo passeremo qui! Bene, quattro pizze! Quattro pizze!